Adesso arriva proprio un altro approfondimento curato targato Silvia Pagni, stiamo parlando di Biglietto da Visita. Bentornati a tutti cari telespettatori nel nostro pomeriggio con Biglietto da Visita. L'ospite di oggi è una lei, pensate, è stata ballerina e una role manager di artisti internazionali. Io andrei subito con la domanda di Rito. Gentile ospite, ci sente? Sì, ti sento. Ci sveli il suo biglietto da visita? Certo, ho un biglietto da visita. Mi chiamo Nicola Crippa, sono nata a Bellusco, in provincia di Milano, da padre milanese. Infatti, Crippa è un nome milanese, ho fatto ballerina, di danza moderna, di rock and roll acrobatico e ho accompagnato vari artisti internazionali. Ho incontrato Elvis nel 1972. Ben arrivata nel nostro salotto pomeridiano. Grazie. Innanzitutto, come stai? So bellissimo, grazie. Per noi è veramente un grande onore. Vado subito con la prima domanda. Ma hai avuto questo grande onore di conoscere Elvis Presley? L'ho incontrato due volte. Ma quanto era bello. Era stupendo. Era un... A parte che, secondo me, è il più grande cantante e performer del secolo scorso. Io ho accompagnato tanti altri grandi, da Fassinato, Lassiminelli, Harry Belafonte, eccetera. Ma Elvis era unico, unico. E poi era gentile, easygoing, era carino, era dolce. Una cosa incredibile. Io per arrivare a lui sono passata attraverso due grandi... Non so come usare... No, devo usare un'altra parola. Arroganti, tipo il suo manager, il falso colonnello Parker, perché poi si è scoperto, che si chiamava Andreas Cornelis Van Quick. Era nato in Olanda ed era entrato illegalmente negli Stati Uniti a vent'anni e non aveva il passaporto. Ma il tuo primo incontro, che emozione eri? Come ti sentivi con il pensare che avresti visto Elvis Presley? Sì, allora, io ero convinta che l'avrei incontrato. Sono nata lì con l'intenzione di incontrarlo, a parte vedere 14 show in sette giorni. Sono state respinte da colonnello Parker e da quell'altro arrogante Joe Esposito di Chicago. Ho detto tutto, se andate a cercare Joe Diamond Esposito... E niente, sono andata dal manager dello showroom, che era un italiano, che avevo visto nel 71 settembre a Milano, al metro Astra, quando hanno trasmesso, la RCA finalmente ha trasmesso qualcosa di Elvis al metro Astra di Milano, That's the way it is, che era uscito nel 70 però, negli Stati Uniti. Lì ho visto, ero assieme a Libio, ero giovanissima, ero assieme a Libio, che era l'allora presidente del Presley Fan Club, ma aveva 13 anni più di me, e l'ho riconosciuto quando sono arrivata e ho visto una targhetta con su Emilio Muscelli. Dato che nel That's the way it is, lui parlava con un fortissimo accento italiano, ho capito che era nato in Italia, infatti era nato nelle Marche. Però studiava una legge quando, improvvisamente, di famiglia abbastanza ricca, un suo zio di New York è disceduto e gli è stato ammallato a gestire il ristorante New York e è andato allo Svex. Comunque, sono andata lì, ho bussato e senza aspettare che mi dicesse avanti sono in casa e ho detto, è meglio, ciao in italiano, sono Nicla da Milano e poi siamo venuti qua per vedere gli scioli di Aldis e incontrare Aldis. Lui ha alzato la testa, dice come? Perché parlava benissimo italiano, ovviamente. Allora gli ho detto, è meglio, sono Nicla da Milano con Livio. E dove è Livio? Io mi volto e dico, Livio, vieni avanti. Livio era un bravissimo ragazzo, ma era molto simido, contrariamente a me. E dico, Livio, vieni dentro, no, fatti vedere. Ah, sei con lui, mi ha detto, sei troppo giovane. No, c'è di cert'anni. E mi ha detto, mi avete prenotato? No, perché? Dovete fare la fine. No, io nella fine non la faccio. E mi sa, oh mamma mia, va bene, vieni qua. Mi ha trattato come sua figlia, aveva 50 anni. L'ha trattato come sua figlia. Ci faceva entrare dagli invited guests, cioè dagli invitati, con suo biglietto da vita. Lui ci ha segnato i posti, noi pagavamo, ma c'era poco. Lui ci ha segnato i posti, ci ha messo due volte in prima fila, sempre senza dare una mancia, che allora per la prima fila bisognava dare 100 dollari ai camerieri. E niente, noi non abbiamo dato niente, perché non avevamo soldi, cosa gli davo. E io devo incontrare Elvis. Una sera, il 26 di agosto, tra il dinner e il midnight show, che ne faceva due, per sera, viene, prima che non riusciamo, dopo il concerto, dice, Nicla, tra dieci e quattro d'ora incontrate Elvis, si fa una doccia e vi incontra. Eh? Allora, ho detto, perché Livio è rimasto impietrito, allora io ho detto, va bene, Livio vai su in camera, prendi la telecamera, la telecamera, la macchina fotografica, piccola, brutta, e prendi il trofeo che abbiamo portato dall'Italia e io vado nella hall a prendere due LP che Elvis ci può autografare. Bene. Quando, allora, è venuto un bodyguard dell'albergo nero altissimo con noi, abbiamo fatto, quello che faceva Elvis dal trentesimo piano, scendeva con un ascensore, ne prendeva un altro, scendeva di un piano e c'era il camerino. Noi abbiamo fatto, dietro c'era la cucina, noi abbiamo fatto la stessa cosa e siamo andati giù e ha detto, fermatevi qua. Va bene, ho detto. Quando, poco dopo, ho sentito Elvis uscire dal camerino, voltare l'angolo, con Gio Sposito dietro, ho detto, Elvis, sono opporsa da lui e mi sono buttata con le gambe, come avocano, sul fianco. Oddio. Però poi mi sono subito buttata giù, perché è bella volata all'acrobatico. E lui mi ha tenuto per la bella. E fa, hey baby. Mamma mia. Hey babe. E ti sei innamorata, dai tu. Mi ha detto, no, ero già innamorata. I love Elvis, gli ho detto. E lui mi ha detto, ma, in inglese, americano, andavo a piano per farsi capire, era un uomo molto intelligente, e mi ha detto, ma tu sei venuta dall'Italia fino qua per vedere me? Eh sì, gli ho detto. E lui, oh baby, mi ha abbracciata, mi ha baciata. Ma mamma mia. Ho i brividi, ah guarda, ho i brividi, anch'io che non ho vissuto quello che hai vissuto tu. Tu pensa che ancora oggi, vabbè, Elvis è un'icona che non morirà mai. Noi anche abbiamo fatto veramente un lavoro per lui, spaziale, con Bobby Solo. Te lo volevo far vedere. Ma io lo conosco benissimo, Bobby Solo, da 30 anni, ho stato a casa sua quando stavo a Verona, poi adesso è andato a Pordenone. Lui mi conosce benissimo. Quando se vado ai concerti mi dice, ciao Nicola. Ah, che amore. Nicola, ma tu sei stata una road manager di Liza Minelli, Sammy Davis, Junior, ma di tanti, Bella Fonte, di tanti questi pilastri della musica, ma come hai fatto? Ma cosa si deve fare per arrivare a essere come te? Sai come l'ho fatto? Ah, è. Ali Bella Fonte, che mi piaceva molto, ma dei miei amici avevano un club di Bella Fonte come noi avevamo un club per Elvis, ma erano anche fan di Elvis, ma ho detto che a Parigi c'era un concerto di Bella Fonte nell'88 e io ero a Parigi per lavoro perché poi sono andata anche a lavorare per un'azienda americana come ex-con-manager, ero a Parigi per lavoro e sono andata e ho preso un biglietto in prima fila. Quando ha finito c'era, l'ho conosciuto da Pier Quinto Cariaggi, marito di Larsen Paul, che stava pensando di portare l'Italia come ha fatto e quando ci siamo messi davanti e io ho detto ad alta voce Harry, quando vieni in Italia? E lui mi ha detto soon, presto, tesoro anche Bella Fonte. Quando è finito Pier Quinto Cariaggi mi ha fermata e mi ha detto ma chi sei? Sono Michele, viene Bella Fonte, viene accompagnarlo per 15 giorni con me a Roma, ha fatto un'altra concerti a Roma, Firenze, Milano, Treviso, Torino e sono stata con lui tutto il tempo, l'ho anche accompagnato a Sabato Sera che c'era quella bionda, adesso non mi ricordo il nome, cantante che adesso non si sente più. Va bene, non ti preoccupare? E sono andata e poi ho fatto la manager, la road manager di Sinatra, l'Aisa Minelli e Samidris, Polante. Che persone erano? L'Aisa Minelli ad esempio, che personale? L'Aisa Minelli era fantastica. E Fransinatra? No. No? No, arrogante. Ma va. Ha mangiato da solo, perché ha voluto un camerino con i divani neri, bla 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 bla, si è fatto venire un cuoco del genere, ha mangiato da solo, io ho mangiato con l'Aisa Minelli e Samidris. E Samidris Junior com'era? Fantastico, fantastico, divertente, l'Aisa Minelli, divertente e poi un po' fragile, un po' brilla sempre e mi ha detto prima, Nicola, Nicola, le scone si riordi, andiamo a vedere, perché era il Palazzo Sardi, avevano fatto il ringo centrale, c'era il tunnel giallo e lei con la cosina di seta, le scarpine con i, no le scarpine, le ciabattine con i pufforosa e siamo andate a vedere. Allora, una domanda importante ti devo fare, perché pensa qui in studio, vieni vieni qua, c'è una ragazza che quando ha saputo che avrei parlato con te, perché lei ama Elvis Presley, è una piccola grande futura artista, dagli un consiglio, cosa deve fare per diventare un grande personaggio come questi personaggi che tu hai avuto a che fare? Allora, bisogna avere una dote naturale, se non ce l'hai, non ce la fai. Lei è bravissima, bisogna studiare credo anche, vero? No, bisogna studiare molto, io ho fatto dieci anni di danza, bisogna studiare, bisogna impegnarsi e bisogna essere determinati. Benissimo. Ma se non ce l'hai dentro, non ce l'hai. Hai dato veramente a lei, lei ti sta ascoltando seduta lì, in una maniera proprio ti ascolta, perché proprio ama questi grandi personaggi, infatti lei è una futura pianista. Bene. I tuoi prossimi e futuri, oppure adesso, progetti, perché sicuramente una come te deve avere sempre… No, non mi fermo mai. Allora, ad ottobre sono stata a Londra, a Londra rappresentazione del libro di Lisa fatto da Riley, Lisa la figlia di Elvis e Riley è la nipote. Dove Lisa, questo è il libro. Ecco, per comprare questo libro come dobbiamo fare? Allora, è stato scritto, è scritto in inglese e ho preso quella americana, però c'è una versione italiana di Mondadori, è stato tradotto già in italiano. Io l'acquisterò e tu mi dovrai fare una dedica. Certo, volentieri. Io ce l'ho dedicata di Riley. Mamma mia. Ma quando è che vieni a trovarci qui alla SLM di Pineto? Ah, guarda, quella zona lì mi piace molto, prima o poi ci vengo. Ecco, io ti aspetto e sarai mia ospite. Grazie. Allora, una domanda, siccome ti conosciamo come grande artista, la tua più grande delusione? Fran Sinatra. Ah, questo anche per me. La cosa più pazza o curiosa che ti sia capitata? Beh, la più pazza è incontrare Elvis. Vabbè, è ovvio. Poi, io sono diventata velista e divemaster di immersioni subacquee. Ho fatto immersioni alla grande barriera australiana, è stata una cosa fantastica. E poi, contemporaneamente, nello stesso viaggio, sono andata a Tahiti, Morebora Bora, e sono andata a Ranghiroa, l'attollo di Ranghiroa, nelle Tuamotù, e facevo due missioni al giorno, la più profonda al mattino e poi al pomeriggio, e dato che è un atollo di 200 km, è il più grande atollo del mondo, si entrava, secondo te, da fuori dall'attollo, che ovviamente è spezzato con la barca, dentro o da dentro e fuori. Nicola, io, tu sai, i tempi televisivi come sono, sono molto drastici, però avrei mille domande ancora da farti, perché vorrei anche toccare un attimino, perché tu hai toccato questi grandi artisti, li hai vissuti, e volevo anche parlare degli artisti attuali, che differenza c'è? E siccome i minuti sono pochissimi, io ti vorrei... Faccio veloce. Ok, allora, io ho contato anche Bruce Springsteen. Oh, mamma mia! No, no, Nicola, io e te dobbiamo rincontrarci, dobbiamo rifare un'altra puntata, perché tu mi devi proprio, mi devi raccontare di questi personaggi, i nostri telespettatori vogliono capire meglio, a parte artisticamente li conoscono, ma come sono persone, come sono di persone, ma oggi, gli artisti di oggi, cosa hanno in più o cosa hanno in meno? Hanno molto meno, hanno molto meno. Molti si montano la testa e non sono delle persone, delle superstar come Elvis, o Bellafonte, o Lassa Minelli, che erano dolcissimi, e con i fan erano veramente molto disponibili. C'è una grossissima differenza. Elvis è stato il più disponibile di tutti. Mamma mia, perché non ti ho conosciuto prima. Nicola, mi prometti che tornerai nel nostro piccolo talk così importante, perché veramente voglio conoscere con te questi grandi personaggi, come sono realmente... Voglio dire una cosa velocissima. Sì. Primo, quelli che si sono approfittati di lui sono stati il falso colonnello Parker, la finti ingenua e greedy, non mi dire in italiano adesso, Priscilla che non dovrebbe chiamarsi Presley perché Elvis al divorzio aveva dichiarato che lei non potrebbe usare il nome Presley. Tutti, quasi tutti, i membri della Memphis Mafia, i peggiori, Joyce Posito e Jerry Schilling, poi se vuoi ti dirò perché, che ho incontrato tutti negli anni Ottanta a Memphis, mentre Charlie Hodge e il cugino Billy Smith invece è persone favolose. Poche, poche. Gli altri si sono approfittati di lui in una maniera che mi ha fatto veramente schifo. Allora, Nicola, mi prometti che faremo una puntata su tutte queste cose che noi chiamiamo Elvis non sappiamo? Certo, perché molti credono, credono. Dal film, dall'orribile film Priscilla di Sofia Coppola, pagato da Priscilla con i soldi di Elvis, viene fuori che lei era una vittima. No, Elvis è stata la vittima di questa donna. Ha avuto amori ben più importanti di lei. E ne vorrei parlare. Ne parleremo alla prossima puntata. Adesso ci organizzeremo quando incontrarci. e veramente io ho desiderio di far conoscere i nostri telespettatori questi punti così dolenti di un grande artista che non mi moriranno mai. Guarda, sono state dette tantissime bugie. Pedofilo, questo, quello. Ma no, ma no. Lui non ha tentato niente con me. Io ero giovanissima. Non ha tentato niente con me. Mi ha abbracciato, baciato, ma perché amavi i fan? Non è che si portava a letto le ragazzine minori come me. Capito? Non è vero. Guarda, ne parleremo la prossima volta. Veramente sono felicissima della tua presenza nel nostro talk. Per il momento io ti devo per forza salutare. Ok. Saluto tutti i nostri telespettatori e ci vedremo la prossima settimana con un altro biglietto da visita.